Sequestrati nel corso di un controllo in un'abitazione di Sant'Egidio alla Vibrata, nel Teramano, 6 litri di cocaina liquida. Il controllo è stato svolto dai carabinieri del nucleo investigativo di Teramo, che insieme ai militari della stazione locale hanno rinvenuto in uno scantinato 4 contenitori con 6 litri di sostanza all'interno. Insieme al proprietario dell'immobile, altri due uomini, entrambi residenti a Sant'Egidio, trovati in possesso anche di materiale chimico, maschere e guanti per la manipolazione della sostanza stupefacente, che in questa forma non era mai stata rinvenuta in provincia di Teramo. La sostanza, sottoposta ad un processo chimico tramite la diluizione con alcuni solventi, assume lo stato di liquido che ne altera le proprietà radiologiche rendendola inodore, incolore e negativa ai narcotest speditivi. Si tratta di una tecnica molto usata anche per il trasporto di ingenti quantità di sostanza, che è arrivata a destinazione, viene sottoposta al processo inverso per ottenere il narcotico nella sua forma più consueta e pronto per la vendita. Attualmente in corso i test volti a stabilire la quantità di sostanza stupefacente contenuta nella soluzione chimica. Per questa ragione i tre uomini, due trentenni ed un cinquantenne, non sono stati tratti in arresto. La loro posizione è legata all'esito di questi ulteriori accertamenti, che se dovessero condurre ad una bassa concentrazione di cocaina all'interno della soluzione, rientrerebbe in campo amministrativo.